benvenuti ci siamo un attimo attardati perché abbiamo atteso alcuni ospiti che daranno vita al nostro eh appuntamento ormai consueto dell'estate sanmanghese eh fatemi salutare un pochettino tutti voi fatemi salutare eh questo ambiente che è sempre molto gioviale gentile sa accogliere una iniziativa che è arrivata al sesto anno non è stato facile non è stata una cosa assolutamente eh prevedibile e si è lavorato molto in una regione in una terra dove molto spesso le iniziative di questo genere rischiano di essere anche delle meteore e il muricello da un po' di anni a questa parte sta diventando anche un fatto culturale un fatto identitario come eh amo dire ci sono tantissimi premi però poi bisogna distinguersi perché non è soltanto la consegna della targa del riconoscimento ma ci deve essere qualcosa in più e questo qualcosa in più del muricello è un po' l'identità che abbiamo cercato di dare di conferire attraverso il lavoro di Antonio di di amici volontari eh personalmente anche io ho cercato di dare il contributo e allora abbiamo eh coniato questa formula un po' talk un po' dialogica se ci permettete che consente a noi tutti a noi per primi di conoscere bene meglio le personalità con le quali andiamo a confrontarci e infatti questa sera noi abbiamo tre premiati in campi eh diversi ma non per questo incompatibili abbiamo anche delle menzioni speciali del premio muricello e sia i premiati sia i menzionati avranno mi auguro per loro il piacere di conversare di dar vita ad un momento talk con me con Antonio e infatti li metteremo qui al centro no ciascuno a a a modi sandwich perché tra le domande di Antonio e le mie ecco ci sarà modo di conversare con loro di conoscerli meglio di farveli conoscere meglio e di capire anche la motivazione per la quale li abbiamo scelti per rendere viva quest'estate san manghese e questa sesta edizione del premio muricello che entra eh di diritto nel cartellone san manghese in questo festival di San Mango che parte io sono molto contento che ci sia questo nuovo impulso una nuova amministrazione presente con il sindaco Luca Marrelli in primis che ho avuto eh il piacere di riabbracciare dopo un po' di tempo detto Luca che lo avevo lasciato consigliere comunale presidente del consiglio l'ho ritrovato sindaco ci conosciamo da tantissimo tempo e per me è stata una gioia particolare ma diamo inizio a questo premio io presento subito Antonio che del muricello è l'ideatore il demiurgo il regista è tutto ed è qui con noi ovviamente come sempre ciao buonasera eh benvenuti io mh due parole soltanto di saluto perché mh non cerchiamo di non allungare i tempi anche perché in questi anni abbiamo sperimentato che ehm non è facile coniugare il riconoscimento ai ragazzi san manghesi che si avviano nuovi percorsi di vita perché stasera a beneficio dei nostri ospiti di quelli che vengono da fuori diciamo che il premio muricello si è inserito in questa eh riconoscimento che ormai da tanti anni l'amministrazione comunale dai giovani laureati e diplomati che è in qualche modo un incoraggiamento a nuovi percorsi di vita perché eh la vita è un è un cammino che non sempre è semplice eh bisogna avere consapevolezza degli obiettivi che sono stati raggiunti e sia i diplomati che laureati toccano un punto importante significativo della loro vita e quindi l'amministrazione a modo di incoraggiamento ma anche eh come dire di 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 saluto eh e di gratitudine per l'impegno che hanno messo nelle cose che fanno ehm da questi ehm consegna queste eh targhe premio non è facile perché poi la combinazione diventa eh non spesso semplice in questi anni abbiamo ehm a volte eh ridotto il tempo stasera cercheremo di recuperarlo invito i ragazzi laureati e diplomati quando saranno chiamati se hanno voglia di dire qualcosa se hanno voglia di fare delle domande eh se hanno voglia anche un po' di farsi conoscere di non eh perché poi in qualche modo questa è una vetrina eh eh questa serata è una una vetrina che serve anche a questo quello che però voglio dirvi lo dico ogni anno mi rivolgo soprattutto ai ragazzi guardate che la scelta che noi facciamo dei premiati non è una scelta eh le premiazioni credo che tutto sommato non sono quasi mai delle scelte ehm eh come dire eh di convenienza o in qualche caso forse eh si bada ad alcune condizioni che agevolano eh lo svolgimento dei premi delle serate noi facciamo un lavoro completamente diverso noi vogliamo cercare di mettere i ragazzi in eh voi ragazzi a contatto con personalità che hanno fatto dell'impegno civile sociale economico imprenditoriale un un caposaldo della loro vita e stasera noi abbiamo cinque persone di grande qualità abbiamo Gaetano Saffioti abbiamo eh poi nel nel corso del 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 eh incontro con loro avrete modo di capire meglio di chi si tratta abbiamo Gaetano Saffioti eh Angelica Artemisia Pedatella abbiamo Alessia Bausone eh Agostino Pantano che è un giornalista e poi eh ogni anno diamo ehm un riconoscimento a chi nel comune di San Mango e questo invece lo voglio dire per le persone che venite da fuori si sono distinti nel loro percorso perché poi alla fine quello che si fa eh come quello che si fa stasera come in tante altre circostanze è uno stimolo che noi cerchiamo di dare che si è cercato di dare in questi anni per creare condizioni favorevoli a che le 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 persone la gente di San Mango potesse crescere culturalmente eh lavorativamente parlando e quando abbiamo la possibilità e vediamo persone che sono riuscite a raggiungere traguardi importanti e nonostante le difficoltà nelle quali hanno operato come uno dei premiati stasera che Franco Arcuri ne siamo particolarmente felici vi racconteremo più tardi cosa ha fatto in quest'ultimo periodo Franco allora iniziamo immediatamente ehm e partiamo con le menzioni che l'amministrazione comunale ha voluto riconoscere eh a queste personalità e io direi di partire Ugo da eh consentitemelo da 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 San Mango e chiamerei qui eh a ricevere la targa che il sindaco eh gli consegnerà Franco Arcuri che già peraltro mi ha già peraltro mi ha benvenuto mi ha rimproverato dicendomi che insomma devo perfezionare caro maestro noi non abbiamo portato le cravate perché attendiamo di essere cravattati di essere cravattati di stile di eleganza però due secondi prima di consegnare il premio voglio voglio dirvi e raccontare anche San Manghesi Franco perché non è vero che nonostante una persona viva all'interno di una comunità spesso la comunità riesce ad essere consapevole eh di quello che eh ognuno riesce a realizzare io vi dico che Franco l'ho seguito in quest'ultimo periodo e ne sono stato felicissimo perché eh intanto è partito in un settore eh ha deciso di fare imprenditoria in un settore difficilissimo un settore in cui in Calabria credo che non abbiamo non abbiamo riferimenti eh egali e in questi anni è cresciuto ha un gruppo di 12 persone che lavora con lui si è fatto un nome ha fatto ha contribuito a dare onore a a questo nostro paese eh con la sua attività e in quest'ultimo periodo eh ha aperto i confini del suo lavoro in molte parti del mondo io lo vedo spesso che sta negli Stati Uniti eh vorrei farvi capire una cosa qui siamo a San Mangos d'Aquino che è la periferia della Calabria che è la periferia del sud Italia che è la periferia dell'Italia quindi stiamo parlando di un territorio difficile che però in questi ultimi anni insomma sta vivendo momenti anche di in qualche modo di crescita ma in questo settore sicuramente iniziare a lavorare era una scommessa enorme stiamo parlando di un percorso iniziato vent'anni fa che adesso sta dando grandi frutti io franco perché poi qualche domanda dopo l'introduzione ne abbiamo già parlato peraltro telefonicamente la cosa che volevo chiedere a Franco due questioni intanto fare un bilancio della attività che tu un bilancio di quello che hai fatto in questi anni e poi vorrei che tu raccontassi il momento eh più difficile di questi anni di lavoro e quando forse ti sei reso conto che le cose stavano cambiando e stavi raggiungendo gli obiettivi che ti eri prefisso il bilancio è difficile farlo cioè nel senso perché ogni giorno per giorno si continua a lavorare e vedi che vai cioè la crisi la crisi c'è ed è forte la cosa che ci contraddistingue secondo me non è tanto la bravura nel fare le cose perché in giro ce ne sono tante ma sicuramente sarà l'entusiasmo l'entusiasmo il sacrificio che facciamo l'amore che proviamo guarda cioè è difficile cioè più che difficile è bello trovare fare un lavoro dove tu ancora la mattina ti alzi e ti entusiasma farlo no? e lavorare per questo e trovare delle persone che eh a cui riesci anche a trasmetterlo cioè le gravatte non le abbiamo inventate noi cioè le gravatte noi siamo entrate anche anzi forse nel periodo in cui la gente la indossa in meno eppure ehm ti vai vai a portare questo prodotto che tu fai lo porti in dei negozi che ancora riescono a vendere un'alta qualità di questo di questo prodotto e e per vendere questa cosa tu che devi fare devi trasmettere quell'emozione che c'è secondo me non è facile devi trovare qualcuno che recepisce quello che ci chiedono a noi che stanno apprezzando almeno dicono che stanno apprezzando è la qualità e il servizio che noi diamo soprattutto andasse specializzare dei prodotti che non tutti fanno cioè nel senso l'art popolo la vera sartorialità della gravatta di questo ci è voluto del tempo siamo passati da un conto terzi può fare una nostra produzione insomma ci è voluto del tempo abbiamo capito qual è l'indirizzo da fare abbiamo trovato delle persone anche specializzate insieme a mia moglie che dalla mattina alla sera è lì dentro ma anche delle persone che ci affiancano e che hanno speso tempo ci hanno creduto pure insieme a noi a queste cose tutto questo e io mi voglio dire una cosa a proposito di quello che lui una delle prime volte ecco perché te lo dicevo perché una delle prime volte che mi sono avvicinato in come dire per conoscere questo il mondo che lui stava costruendo sapevo che aveva un'attività che si che stava crescendo quindi perché conosco e conosciamo franco come una persona seria però quando sono andato a lavorarlo è passati qualche passato qualche anno forse è stato otto nove anni fa beh lui mi ha tenuto due ore nella sua nella sua azienda per due ore mi ha spiegato tutto quello che era possibile spiegare su questo mondo e lo faceva con una luce degli occhi a ragione quando parla di passione con una luce degli occhi a me mi ha fatto vedere toccare con mano che cosa significava realizzare i prodotti e gli articoli che fa lui adesso san mango all'orgoglio di avere un imprenditore che è cresciuto all'orgoglio di avere un imprenditore io vado in tanti posti e tante volte sento persone che quando parlo di san mango mi chiedono di lui mi chiedono del lavoro che sta facendo mi chiedono della sua attività e questo se permettete un motivo di orgoglio e adesso il sindaco ti consegnerà la targa però vorrei leggere ai san manghessi le motivazioni della menzione per la quale si è stato premiato intanto franco complimenti anche da parte mia voglio dire la cravatta ormai dumento immortale diciamo di questa del look maschile no e poi una cravatta tu hai detto l'abbiamo presa questa cosa nel momento in cui stava venendo meno c'erano tanti pregiudizi uno dei pregiudizi forse peggiori sulla cravatta no e il classico regalo che riceve non so il papà lo zio l'amico ecco la solita cravatta e adesso sta riprendendo quota anche il regalo della cravatta ma intanto c'è nel senso meno noi in particolar modo nel periodo natalizio questa è una cosa che noi facciamo tanto però la cosa che ci contraddistingue è quello di cercare di regalare qualcosa di diverso cioè quello che dicevo prima c'è nel senso non regalare la solita cravatta ma regalare qualcosa che è andato a riprendere la tradizione cioè nel senso noi siamo molto specializzati nelle cravate spoderate che magari agli occhi di tante persone non sanno cos'è oppure non l'hanno mai apprezzato però noi siamo apprezzati soltanto per questo cioè dove tu effettivamente tutta vai a vedere metti in risalto soltanto il discorso della minorità e della seta grazie a luca marrelli sindaco di san mango l'onore di premiare franco arcuri mettiamoci anche in favore di camere telecamere e con gioia che consegno questo targa questo premio a franco arcuri a cui mi lega una passione che è la maratona lui ha un carattere come un maratoneta non si ferma mai e se è vero come è vero che la cultura non ha limiti non ha recinti anche i tuoi prodotti non devono avere nessun limite che sono conosciuti non solo in italia in europa ma anche in tutto il mondo allora per te questa targa questa targa franco arcuri con la seguente motivazione per aver saputo creare un marchio di impresa prestigioso con l'impegno e il coraggio di chi ha sempre inseguito il futuro sognandolo come un'opportunità una motivazione che compendia una carriera che ci auguriamo ancora più luminosa franco rimaniamo però sempre nell'artigianalità ok grazie grazie sindaco che poi sarà ancora protagonista di altri momenti premiali noi adesso andiamo avanti iniziamo proprio i momenti di di talk di mini talk se volete con i nostri ospiti e iniziamo da una menzione speciale da una delle due menzioni speciali che questa sera caratterizzerà il sesto momento il sesto la sesta edizione del premio muricello io inizio da alessia bausone dottoressa ricercatrice giurista così giovane impegnatissima alessia puoi prendere posto impegnatissima nella difesa concreta e non parolaia dei diritti civili delle libertà che guardate non sono un corpo diciamo di valori di possibilità e di opportunità acquisite è un qualcosa per le quali e per il quale bisogna combattere continuamente a livello giuridico a livello legislativo prima si andava nei campi di battaglia si facevano le guerre antonio oggi non bisogna mai considerarle troppo scontate assunte o acquisite per sempre ma bisogna tenere sempre la testa alta bisogna sempre stare allerta perché ci possono essere momenti che possono anche metterle un po' in bilico o perlomeno compromettere alessia bausone chi è è ripeto una giurista una ricercatrice presso l'università a catanzaro in diritto privato è una persona impegnata ripeto in politica ha un modo nuovo un modo che sta cercando di radicare nel nostro tessuto sociale di vedere la politica di vedere i diritti civili di vedere anche lo stesso ambiente universitario nonostante sia abbastanza cattiva in sede d'esame ma è una è una cattiveria tra virgolette perché un professore un ricercatore nella fattispecie che voglia approfondire che ami la sua materia in questo caso il diritto civile diritto privato ha sempre l'ambizione che i propri allievi o i collaboratori abbiano la stessa passione immaturino la stessa forza nell'amore di questa materia alessia grazie per essere con noi ci possiamo un attimo accomodare allora io volevo salutare tutti assolutamente grazie grazie a san mango sono un po' intimorita perché sono qua tra il gatto e la volpe la prima volta che mi capita non è una cosa da tutti i giorni chissà che cosa mi aspetta da questo dibattito tra l'altro devo stare attenta a cosa dico in privato a ugo floro perché lo tira fuori in maniera veramente spudorata quindi chissà quante altre cose potrà tirare fuori da questa conversazione assolutamente e io ripeto sono rimasto insieme ad antonio dalla dalla originalità del tuo modo di fare politica in molti fanno politica ora al di là di quelle che sono le bandiere di partito al di là di quella che è l'attualità che viviamo molto povera di confronto perché il confronto social non può certamente sostituire quello vero quello che noi tutti vorremmo e che tutti auspicheremo però vedere alessia che ad ogni tema sulle libertà associa una battaglia e spesso e volentieri la fa in splendida solitudine è un qualcosa che ha rapito l'attenzione mia di antonio e degli altri collaboratori del premio tu sei guarda ugo hai toccato un tema molto importante nel senso che molte volte quando si fa attivismo quando si fa attività civica perché noi sentiamo spesso parlare di civismo che cos'è il civismo se non stare nel territorio sul territorio vicino a chi porta avanti certe istanze certe tematiche anche difficili no a prescindere dalle bagnere di partito a prescindere dalla cosiddetta repubblica dei like uscendo da questo contesto sul territorio quando si fa attivismo vero e proprio molte volte ci si sente anche soli perché c'è un conservatorismo anche a livello di istituzioni che prescinde anche dalla calabria no quindi cioè io devo scornare ogni giorno con dei muri dei muri pazzeschi no però c'ho la testa molto dura e lo faccio senza problemi non sono sola a livello di società perché l'anno scorso ad esempio io tratto molto spesso il tema dell'omofobia della violenza omofobica ma anche delle libertà a livello di orientamento sessuale delle persone no che sono temi anche difficili da masticare se tu pensi fino a poco tempo fa no parlare di riunioni civili tra persone dello stesso sesso era una cosa molto strana anche in calabria la gente strabuzzava gli occhi no adesso abbiamo anche delle persone anche in calabria anche nel catanzarese io ho sposato la prima coppia alla mezza terme di due uomini tra l'altro dolcissimi e non ha fatto scandalo l'ho visto anche nei commenti sui social sui giornali online no non ha fatto scandalo perché attecchito un po nel tessuto sociale quindi queste battaglie sociali riescono a essere assorbite dalle persone molto più tardi dalla politica però da quel punto di vista io sono sempre lì in prima linea a rompere le scatole no come dici tu tu non sei calabrese ma attraverso l'attività universitaria di ricercatrice ormai ti sei radicata in calabria in questo territorio in particolar modo ecco queste battaglie e dall'alto valore anche libertario stanno trovando consensi sono recepite o ancora dura la calabria in tal senso guarda io siccome sono sono universitaria sono economica ti correggo perché io ho origini calabresi mia mamma è di reggio calabria e io ho sempre amato la calabria adesso vivo in calabria faccio anche attività lavorativa politica e sociale qui però ti dico l'anno scorso abbiamo avuto a riccadi un evento orribile che era un evento di una casa vacanze che ha detto che non accettava gay animali no ha fatto il giro del mondo a me mi ha intervistata addirittura la bbc col mio inglese maccheronico ho dovuto spiegare che la calabria non era quella di quell'annuncio la calabria era molto altro no e insieme all'associazione alle istituzioni abbiamo creato un evento che rifaremo anche quest'anno che si chiama omofobi del mio stivale no per essi c'è anche un gioco linguistico di fondo per dire che c'è anche una calabria che non è grigia che non è cupa che non è monotematico monogenere ma c'è una calabria progressista ma non dal punto di vista politico dal punto di vista del quotidiano perché io ho visto porto una testimonianza stasera quando ho sposato questi due ragazzi alla mezzia c'era tutta la famiglia un centinaio di parenti commossi anche i nipotini piccolini che piangevano commossi per i loro parenti che coronavano un sogno d'amore no perché l'amore deve fare scandalo io questo voglio portare sia qui che magari siamo come abbiamo detto prima nella periferia sia nella città ma a maggior ragione va portato in periferia questi temi vanno portati negli angoli anche più piccoli della calabria in questo caso no per fortuna con dei colleghi consiglieri regionali abbiamo scritto abbiamo anche discusso in commissione un'apposita legge per il superamento delle discriminazioni anche per orientamento sessuale e quindi stiamo lavorando su vari fronti no sul fronte istituzionale sul fronte legislativo sul fronte culturale ma anche soprattutto sul fronte sociale perché parlando con le persone che si superano quei gap culturali che bloccano molte volte una intera società Antonio Alessia no io non ho molto da aggiungere se non ti ho ammottolito no e il problema è che vorrei che anche i ragazzi che hanno la possibilità di ascoltarti stasera comprendessero quando per esempio si parla di omofobia ma non soltanto di omofobia di differenze di genere di di qualsiasi tipo è vero quello che dice Alessia che stiamo facendo molti passi in avanti è altrettanto vero però che ancora la strada è lunga io proprio un qualche settimana fa mi sono un paio di settimane fa mi sono confrontato con un ragazzo di 17 anni che ho conosciuto quando andavo quando sono andato a fare lo dicevo prima Gaetano facevamo delle lezioni antimafia sto facendo delle lezioni antimafia in una scuola professionale io non so per quale motivo al termine della seconda lezione questo ragazzo si è avvicinato perché io ho fatto scrivere in forma anonima dei biglietti che rappresentano che raccontassero le sensazioni provate durante questa lezione e mi trovo tra questi un biglietto che non aveva a che vedere con l'argomento che stavamo trattando ma che parlava di questo problema del sentirsi diverso di non avere il coraggio di parlarne in famiglia io sono rimasto un biglietto anonimo sono rimasto sorpreso non sapevo l'ho letto quando sono tornato qualche giorno dopo non sapevo chi fosse che mi cercavo di capire da quelli che mi guardavano chi potesse essere ma quando è terminata l'incontro mentre stava andando via sul cancello si è avvicinato questo ragazzo ha detto quello che le ha scritto il biglietto sono io e mi ha chiesto un consiglio che io l'unico consiglio che poi mi sono sentito di dargli trova il coraggio di dire di raccontare quello che sei perché forse le cose non saranno così terribili come le immagini tu però come vedete ancora ci sono dei drammi molto forti per cui queste battaglie che sembrano scontate non lo sono affatto ed ecco per questo perché ad alessia stasera noi consegniamo questo riconoscimento io mi dispiace perché i tempi dei talk anche per un fatto di riguardo nei confronti un po di tutti quanti non possono essere molto lunghi ma avremmo tante cose da dire però ecco perché il riconoscimento di stasera che ad alessia sarà consegnato dal presidente del consiglio comunale Luisa Fiorillo e il riconoscimento per il coraggio e l'impegno con i quali porto avanti la lotta a difesa dei diritti civili io mi auguro che ti faccio dire l'ultima cosa ma mi auguro che tu possa continuare sempre con la forza e la determinazione che hai mostrato in questi anni grazie questo riconoscimento riconoscimento anche per i temi che portiamo avanti non è solo per me io vi ringrazio tantissimo per stasera per l'invito per il premio però anche parlare riconoscere pubblicamente che ci sono certe tematiche che come diceva Ugo non solo sono le tematiche dei diritti degli omosessuali no ad esempio recentemente abbiamo approvato in consiglio regionale io ho collaborato in questo la legge sull'endometriosi sul riconoscimento sociale dell'endometriosi una legge importante per le donne due anni fa è stata fatta una legge apposita sulla corretta applicazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza se fatta divulgazione anche su questo quindi le libertà civili toccano tutto toccano i diritti delle persone diversamente abili toccano i diritti dell'omosessuale delle minoranze dei migranti toccano i diritti delle donne anche più basilari no molto spesso messi a rischio da questi rigurgiti conservatoristi che noi troviamo anche nelle piccole cose quindi grazie San Mango grazie a voi due devo dire che ce l'ho fatta no? Grazie a te Presidente Fiorillo a consegnare la targa io ringrazio particolarmente Alessia perché ripeto i diritti non sono mai roba scontata dobbiamo saperli guardare dobbiamo saper guardare loro continuamente per evitare che vengano compromessi anche di poco perché quel poco può significare molto spesso una restrizione delle nostre libertà della nostra libertà prego Presidente con la menzione premio Muricello 2018 l'amministrazione comunale ad Alessia Bausone per il coraggio e l'impegno con i quali porta avanti le lotte a difesa dei diritti civili Alessia Bausone ospite del Muricello edizione 2018 grazie Alessia bocca al lupo parleremo ancora con te e sentiremo ancora parlare di te che poi c'erano tante cose da chiedere ad Alessia che lei comunque è un attivista di un partito importante molto spesso Antonio certi partiti non vanno avanti perché le istanze non le recepiscono nemmeno da chi fa politica all'interno quindi è un problema abbastanza serio ma avremo modo insomma il Muricello non è soltanto un'occasione una volta all'anno ma c'è tutto un percorso fatto di piccole grandi iniziative che ravvivano questa comunità e non solo andiamo all'altra intervenzione sì allora è un giornalista che non abbiamo come gli altri come le altri premiati chiamato qui solo per quello e per il buon lavoro che ha fatto dal punto di vista professionale lo abbiamo chiamato perché nel mondo del giornalismo io sono un giornalista ci sono molti validi colleghi che spesso però si piegano alle logiche editoriali alle logiche delle opportunità alle logiche anche lavorative sarebbe molto più facile in alcuni casi fare spalluce e avere molti vantaggi dal punto di vista dell'attività esattamente quello che non è Agostino Pantano Agostino un collega giornalista libero cocciuto l'aggettivo libero è molto spesso abusato quasi stuprato non solo dalla dalla pubblicistica caro Agostino ma dalla 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 politica anche insomma no dalla politica editoriale e Agostino è una persona certo ci sediamo guadagniamo la postazione talk è una persona che io ho conosciuto un collega che io ho conosciuto in un momento difficile umanamente sentimentalmente io direi anche tragico della sua della sua vita e lui emotivamente ma anche con il coraggio mi contagiò era un'intervista televisiva e e il tuo caso stava per arrivare agli onori alla ribalta della cronaca ancora era un caso che andava come si è sotto coperta conoscevano pochi anche perché pochi volevano conoscerlo e pochi nostri colleghi volevano lumeggiarlo volevano illustrarlo senza contare gli editori che muovevano questi colleghi lui ha vissuto un'odissea giudiziaria per un fatto assurdo che è capitato a lui ma potrebbe capitare a chiunque e io l'ho conosciuto proprio nel vivo di questa odissea che poi si è conclusa con una straordinaria soluzione ma prima quanta fatica quanta sofferenza quanta ingiustizia e anche che caso giuridicamente parlando assurdo quasi kafkiano dove la solidarietà è mancata per un lungo tragitto di questo iter giudiziario salvo arrivare un po pelosa un po sincera mi auguro che la parte sincera sia stata quella più grande agostino quando c'era già aria di vittoria ora prima di parlare di altro agostino vuoi un attimino spiegare che cosa ti è successo alla platea del muricello visto che abbiamo il muro sembra il muro del pianto se raccontando questa vicenda brevemente per fortuna una vicenda che appartiene al passato due anni fa questo processo che tu definisci kafkiano assurdo si è concluso con una completa assoluzione un processo che è durato quattro anni ve lo riassumo perché è bene che il pubblico capisca che gli attacchi al giornalismo soprattutto in questa epoca in cui si fa confusione tra fake news giornalismo eccetera eccetera l'attacco al giornalismo non tocca i giornalisti perché io mi sono difeso era un processo ingiusto l'ho detto l'ho ribadito e poi alla fine le cose mi hanno dato ragione ma l'attacco al giornalismo riguarda i lettori riguarda i telespettatori riguarda il pubblico del nostro lavoro e voi immaginate il reato tipico che si applica i ladri cioè la ricettazione la ricettazione secondo il codice penale è colui il quale il ricettatore approfitta del furto commesso da Antonio si avvantaggia perché Antonio ha bisogno di sistemare di rivendere l'oggetto e quindi il ricettatore entra in causa che viene chiamato in causa perché si avvantaggia del reato commesso da altri questa fattispecie di reato è stata applicata per la seconda volta in Italia a me prima di me a un giornalista illustro il direttore di oggi Sandro Maier non so se vi ricordate ma in quel caso l'oggetto il passaggio dal ladro al ricettatore c'era perché erano vi ricorderete le famose foto rubate a Berlusconi nella sua villa in Sardegna violazione della privacy era il reato principale il direttore aveva pubblicato quelle foto pagandole e fu applicato quel reato la ricettazione nel mio caso invece per la prima volta non c'è l'oggetto del reato perché oggetto del reato viene considerata la notizia poiché secondo quel magistrato che chiese ottenne il mio rinvio a giudizio io mi ero avvantaggiato da un documento considerato secretato il documento considerato secretato era il pane quotidiano di noi giornalisti quando sciolgono un consiglio comunale i lettori hanno bisogno di sapere i motivi per cui quel consiglio comunale è stato sciolto per mafia quindi io pensavo di fare un servizio a favore dei cittadini e dei lettori invece avevano considerato che quelle notizie non andavano diffuse è una cosa appunto un doppio livello di gravità perché udite udite nel mio caso non è stato neanche indagato ne è stato neanche cercato il ladro cioè chi ha commesso il primo reato quindi è stato isolato il mio caso io sono stato processato per ricettazione mi sono sono stato assolto ma loro hanno fatto finta che non esistesse il il furto perché io posso capire se sono stato il ricettatore vai a cercare chi è il ladro ma il ladro evidentemente era qualcuno che loro non volevano trovare cercare perché a un giornalista chi può dare le notizie che riguardano lo scioglimento quindi qualche livello alto allora colpivano il giornalista e ne colpivano uno per educarne cento volendo dire guardate che se sciolgono un consiglio comunale è bene che i giornalisti non scrivano perché possono andare incontro a problemi di questo tipo e beh Antonio per lo stesso principio sarebbe dovuto andare dentro insomma un sacco di volte perché quando si è parlato di scioglimento di comuni locali citiamo quello di Lamezzi Antonio tu dalla prima pagina Lamezzi del quotidiano insomma ci davi sempre non dico delle anticipazioni ma a volte cose che si avvicinavano a quello che poi abbiamo trovato no realmente nella relazione e sul merito poi bisognerà fare un altro discorso che sorreggeva il provvedimento voi avete ascoltato diciamo una prima parte della storia di Agostino adesso ve ne racconto un'altra Agostino ci ho riflettuto un po' se dirla questa cosa anche perché secondo me un po' non so se ti fa piacere però il problema è questo Agostino si trova qui stasera perché per l'ennesima volta credo che sia stato non dico vittima perché non è il termine giusto raccontava su Facebook ieri che ricevi questo premio da un periodo in cui ti trovi disoccupato Agostino si trova disoccupato in questo momento non credo soltanto perché ci sia una mancanza di lavoro Agostino si trova disoccupato in questo momento perché credo non abbia eseguito a fondo una certa determinata linea editoriale o forse nelle scelte che sono state fatte si è tenuto in considerazione il fatto che lui bene e io vi invito a riflettere su questo perché poi Agostino ti ripeto purtroppo siamo i tempi i tecnici sono ristretti però invito voi a riflettere su questo fatto qui Agostino avrebbe potuto tranquillamente scegliere una strada molto più comoda anche perché qua non siamo a New York che tu perdi il lavoro e domani mattina vai e ne trovi uno dietro l'angolo spesso fanno passare questa barzelletta che insomma Ugo mi bacchetterà e lo so che mi bacchette non solo lui questa storia che insomma molto spesso sentite dire che i migranti portano via il lavoro agli italiani come se prima che arrivassero i migranti il lavoro ce lo buttassero addosso ecco Agostino non è che vive in una terra in cui il lavoro esce da da dalla porta di casa e lo trovi eppure ha fatto una scelta ma perché hai fatto io sono su piazza da una quindicina d'anni nel giornalismo insomma ho cambiato tranne il quotidiano del sud il tuo giornale le ho cambiati tutti no io non io dico che quando si interrompe un rapporto di collaborazione è giusto che il giornalista eh prenda la sua decisione io eh non sono stato mai licenziato ho preferito sempre staccare la spina prima l'ho fatto con Calabriora vi ricordate eh eravamo siamo stati chiamati all'epoca i giornalisti con la schiena dritta perché era cambiata la linea editoriale eh c'era il governatore Scopelliti che era da poco stato eletto insieme al direttore Paolo Pollicheni altri dieci giornalisti abbiamo fondato un altro giornale quindi ho staccato io la spina poi dagli altri giornali anche eh nell'ultima esperienza nessun eroismo solo che quando non c'è un rapporto di fiducia eh con l'editore o con chi dirige un giornale credo che noi dobbiamo eh essere conseguenziali quindi mi trovo disoccupato e non come dire non mi lamento di questo anzi il fatto che voi abbiate voluto in qualche modo eh affidare assegnarmi questo riconoscimento mi fa capire che l'avete fatto perché non c'è una contropartita cioè di solito si invita i giornalisti o si danno i premi ai giornalisti perché poi il giornalista fa il servizio ecco io non vi farò alcun servizio se non quello di noi abbiamo noi abbiamo capito una cosa che al di là di quelle che sono le tue qualità le qualità di 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 Agostino ce ne fossero di Agostino Pantano professionale però Agostino è stato un innovatore perché lui è disoccupato ma il concetto di disoccupazione è relativo ma è molto occupato a eh a scrivere articoli su Facebook dove hai molto spesso a mio parere una incidenza una eh eh vis no di penetrazione forse maggiore rispetto a quella che è quella che potrebbe dare la testata tradizionale che ormai il paradosso non più paradosso ormai è questo si diventa molto più radicati a volte anche forse pure radicali su Facebook rispetto alla carta stampata che ai noi sta perdendo sempre più consistenza e prima di riconoscerti e di avere anche un tuo pensiero su questa tua innovazione io dico che se voi leggete Agostino Pantano sul suo giornale la pagina Facebook sul suo giornale quello di cui è direttore redattore caporedattore e anche sindacalista non mi può cacciare nessuno non ti può cacciare nessuno a meno che Zuckerberg non ti spenga l'account il profilo e troverete una cosa molto interessante perché poi lo dicevamo all'inizio si premiano tutti però nella premiare nel riconoscere bisogna anche riconoscere scusate la ripetizione anche l'identità il valore del professionista e Agostino Antonio secondo me ha una caratteristica quasi unica non lo so c'è l'iniziativa antimafia c'è il premio antimafia il meeting antimafia la manifestazione antimafia la processione antimafia ecco Agostino riesce con dati con a volte anche con evidenze giudiziarie a dimostrarti chi fa l'antimafia di professione chi la fa invece con passione e te lo dice molto spesso svelando tutti questi intrighi questi intrecci spogliandoli dell'ipocrisia che vige e regna sovrana in questo mondo quindi io molto spesso ti utilizzo come bussola perché se c'è ti faccio esempio la preside che fa l'iniziativa antimafia e tu mi dici beh brava la presia potrei anche dire il direttore potrei anche dire il presidente di questa associazione che ha fatto questo e questo e questo però dovete sapere che ecco io vado a leggere sempre il però dovete sapere che e tu ma perché ci sono passato nel senso che oggi tutti denunciano i professionisti dell'antimafia io in tempi non sospetti avevo svelato il caso di uno che aveva fatto il furbacchione approfittando dell'antimafia lo scrissi perché dico questa cosa perché gli attacchi alla libertà di stampa parlo con i cittadini soprattutto guardate che non sono solo i processi quello che ho detto prima la ricettazione ma gli attacchi alla libertà di stampa sono anche le macchine del fango che spesso si accendono sui social ebbene io ho un altro processo ora in corso siamo in cassazione perché una persona un personaggio pubblico invece di criticare un mio servizio e giustamente di dire non sono d'accordo si mise sui social si mise su internet e accese la macchina del fango io che non me la tengo neanche diciamo anche per una questione di principio lo so mi con denunciato e ora ho vinto in secondo grado siamo in cassazione perché poi pure lui l'ha fatto come una questione principale allora per dire che cosa che se uno vuole difendere la libertà di stampa deve poi esporse deve poi metterci la faccia deve poi essere conseguenziale e quindi andare anche nelle sedi giuste e l'invito è appunto di distinguere sempre il giornalismo sano autorevole da dal fango che purtroppo circola anche sulla rete agostino pantano grazie chiamo aldo grandinetti a consegnare il premio ad agostino aldo nostro consigliere comunale nonché titolare di una caterba di dele che scusate ogni tanto mi scappa che si è preso sulle spalle la menzione la motivazione consigliere grandinetti per aver scelto la via più difficile nell'esercizio del mestiere di giornalista essere al servizio della notizia della propria coscienza e della propria terra l'amministrazione comunale ringrazio grazie grazie agostino allora io adesso devo chiedervi un supplemento di attenzione soprattutto ai ragazzi perché chiamiamo vorrei chiamare vorrei che arrivasse già in mezzo a noi Gaetano Saffioti iniziamo i riconoscimenti i due riconoscimenti del premio muricello ora vi chiedo un supplemento di attenzione perché ci sono persone guardate nei confronti delle quali la nostra società un debito di riconoscenza che difficilmente riusciremo mai a pagare che hanno una storia che a raccontarla e a conoscerla veramente come ho fatto io in questi anni ha davvero dell'incredibile e Gaetano Saffioti è un imprenditore non lo voglio chiamare antimafia è un imprenditore che a un certo punto ha deciso di riprendersi la sua libertà ha fatto questo in un tempo in cui le cose non andavano come vanno oggi io dico a voi ragazzi che a volte vi affacciate sul tema e affrontate il tema della legalità con qualche difficoltà perché San Mango fortunatamente non conosce ha avuto anche qualche caso qualche episodio di criminalità ma non conosce la barbarie della della criminalità organizzata e l'andrangheta ma Gaetano Saffioti e Di Palmi è cresciuto in un periodo in cui in quella zona lì non è che giocavano a bocce ammazzavano le persone e a Tauria Nova in quegli anni tra gli episodi che si sono verificati ce n'è stato uno in cui dopo aver ammazzato in piazza una persona gli hanno tagliato la testa e ci hanno giocato al tirassegno e qua non sono il racconto dei film che vediamo in televisione questa è la realtà che noi spesso da calabresi e soprattutto voi giovani non conoscete perché oggi non è facile fare antimafia e dire no all'andrangheta però si riesce più facilmente perché c'è un tessuto sociale c'è un forze dell'ordine magistratura anche un mondo giornalistico che si oppone in un certo modo ai tempi in cui Gaetano Saffioti ha fatto questo passaggio compiendo alcune cose un episodio ve lo voglio raccontare perché poi faremo alcune domande a Gaetano perché vi dice che 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 persona voi avete di fronte quando Gaetano Saffioti ha deciso di e questo perdonami ma lo devo raccontare perché una cosa che racconto sempre perché sembra veramente roba da film quando Gaetano Saffioti ha deciso di denunciare i suoi estorsori doveva ha fatto un lavoro di indagine autonomo prima ancora di andare alla polizia ha cercato di raccogliere le prove da portare poi ai magistrati e ai poliziotti per incastrare quelli che gli estorsori che gli avevano chiesto il pizzo sapete cosa è successo una volta è stato chiamato da uno di questi estorsori un latitante in un in un'abitazione non so in un capannone e li vedete in televisione quei film di azione che vi piacciono tanto dove ci sono le persone che vengano accolte vanno da questi criminali e trovi gente con la che con i fucili le pistole beh esattamente quello che è successo a lui è stato convocato è arrivato da questo latitante capo mafia attorno a questo latitante c'era gente con i mitra con le pistole e lui era armato di un'arma pericolosissima che era un registratorino che si era infilato nella tasca per registrare quello che gli stavano chiedendo piccolo problema non sono i registratori di oggi sono i registratori di una volta con la cassetta che quando finivano di registrare scattava il pulsantino e sapete cosa significava questo che se mentre lui si trovava lì finiva il nastro e si sentiva questo rumore sarebbe stato scoperto e non è che quelli gli davano una pacca sulle spalle lo mandavano a casa e diceva beh non ti preoccupare no a casa la sua famiglia io le cose ve le dico per come sono anche se sono crudo non l'avrebbe rivisto più sarebbe finito non lo so non gli avrebbero detto di andare a comprare non gli avrebbero detto e allora si è dovuto inventare un escamotage ha trovato lì vicino delle pezzi di legna secca si c'è seduto sopra ha provato a vedere schiacciando il piede se potesse essere un rumore simile a quello del registratorino ha visto che poteva essere tentata la carta ha detto spediamo che mi vada bene quando è scattato è finito il nastro lui ha schiacciato e fortunatamente la cosa è passata anche perché allora difficilmente ecco questo è Gaetano Saffioti a me la cosa che colpisce di più e lui ci racconterà alcune cose la cosa che colpisce di più di Gaetano è questo sorriso che ha sempre quando parla nonostante minacce vive sotto scorta ne ha subito di tutti i colori ha dovuto far fronte a 150 mila problemi lo è sorridente e si rivolge sempre con estrema speranza a chi parla con lui allora noi stasera ci faremo raccontare alcune cose e poi consegneremo con grandissima gioia questo e anche gratitudine perché ricordatevi una cosa e se noi abbiamo fatto delle grandi battaglie e abbiamo raggiunto degli obiettivi sulla nella lotta all'andrang e alla criminalità è perché c'è gente come Rocco Chinnici Falcone Borsellino Costa e tanti altri ci hanno rimesso la pelle nel mondo dell'imprenditoria se oggi c'è gente che non abbassa la testa è perché ci sono stati imprenditori come Gaetano Saffioti che hanno rischiato la pelle davvero non per scherzo che non hanno abbassato la testa quindi io stasera noi stasera siamo felici di averti qui e vorrei cominciare ci sediamo un attimo così ci racconta Gaetano e avrete modo di ascoltarlo dalla sua voce innanzitutto Gaetano che cose scattate quando hai deciso che dovevi cambiare pagina e riprenderti la tua libertà che cosa è scattato che cosa è successo e che cosa hai pensato di fare? Innanzitutto ha lotato troppo non mandiamo questo messaggio di eroismo perché non sono un eroe e nemmeno coraggioso una mattina mi sono alzato e ho detto stamattina vado a denuncio non è così ovviamente parliamo di un momento storico molto lontano da adesso per quanto per certi versi vicino e certi versi lontano che sono 16 anni 6 mesi 17 giorni che ho fatto le denunce del periodo in cui mi sento un uomo libero e quei tempi parlavi del registratore ma parliamo di tempi in cui non c'erano gli smartphone non avevi tutti con queste cose in mano non c'era informazione non c'era comunicazione neanche si sussurrava la parola andrangheta non c'erano di questi eventi era un momento molto particolare e soprattutto non c'erano neanche le condizioni per denunciare perché in quei incontri con i letitanti di quali c'è nato poco fa alcune volte c'erano anche esponenti delle forze dell'ordine o quando subivo attentati ho subito decine di attentati fra escavatori camion e cose varie quando andavo a fare la denuncia che diceva la denuncia diceva adotta l'undicesimo comandamento che penso conoscete tutti qua no e fatti i fattitori a campi cent'anni cioè quindi quando già ti dicono queste cose non avendo un interlocutore che non dico ti sprona ma quantomeno ti incoraggia e chiaramente non non puoi fare altro che dire le cose evidentemente vanno così ma tutto questo percorso cozzava con gli insegnamenti di mio padre no c'è meglio pane e cipolla ma a fronte alta tutta una serie di cose di positività nella crescita della vita se non che una delle gocce che fece trabloccare il vaso fu l'ennesimo attentato che compirono in pieno giorno quando fecero scendere dal dal camion un autista e gli dietero una tannica di benzina costringendolo a spargerlo sul mezzo dagli fuoco quindi rischiare anche la vita degli operai per qualcosa in cui non c'entra cioè fin quando si rischiano i mezzi per quanto fa male ma gli operai no tra l'altro c'era anche un mio fratello là vicino che sentivamente è andato verso l'incendio ma fortuna non è successo niente perché queste persone andarono via e contemporaneamente ci fu un magistrato che in televisione a modo di provocazione si lamentava della mancata collaborazione dei cittadini e definì gli imprenditori dei codardi quindi puoi immaginare che lui metteva il coltello nella piaga no l'incontro poi nell'ennesima denuncia e perché poi io giravo passavo da caserma a caserma prima o poi ne trovo uno giusto aver conosciuto un ufficiale all'epoca era della guardia di finanza che a cui chiese di parlare con questo magistrato che era il dottor Pennese della DDA di Reggio Calabria io andai là e gli disse dottore io sono Gattano Saffioti e non sono un codardo però voi o non sapete o fate finta di non sapere come funziona il sistema andrangheta perché loro pensavano fossero solo quattro straccioni e isolati e in diversi paesi e non avevano cognizione dell'unitarietà dell'andrangheta la mia denuncia deve comunque comportare una cosa fondamentale a me non interessa che venga l'era il tizio che ha il sempronio perché con tutte le falle che la giustizia ha dopo due giorni sono fuori mentre resta qualcosa di più importante cioè trasmettere un messaggio positivo ai concittadini fare capire che non solo si deve ma che si può denunciare e che la denuncia non deve comportare la fine della propria vita ma la continuazione è anche il miglioramento della stessa quindi fu una sorta di condizio sine qua nonno il fatto che la denuncia doveva comportare che io restassi nella località d'origine mentre oggi magari non fa tanto notizia ma a quei tempi era una cosa eccezionale cioè restare con la mia brutta faccia ho sempre il stesso numero di telefono abito sempre nella stessa casa cioè continuare a fare una vita normale perché la vittoria è più grande fare una vita normale lo stato dovuto dimostrare che si sarebbe rieppropriato del territorio e avremmo messo anche alla prova tutte quelle che si riempiono la bocca di legalità ma poi nei fatti non si pratica e così fu scattò quell'operazione che comportò l'arresto di 48 persone di otto clan diversi nella zona in cui operavo sequestro dei beni confischi eccetera il proseguo del mio progetto cioè dell'idea di restare ha portato poi i frutti perché poi nel proseguo ci sono state altre arresti per altre operazioni altre confischie perché il testimone di giustizia è e deve essere una risorsa per lo stato e per i cittadini e non un peso non un costo i fatti sottoscritto non ha mai preso un centeso ma anzi ha rifiutato i soldi dello stato perché non vuole vivere dell'emosina perché io devo darmi da fare da solo riuscire col mio lavoro ad andare avanti e mandare un messaggio non fatto di fragile speranze ma di solide certezze perché ognuno di noi ha un potere che a volte non sappiamo di avere quello di scegliere non siamo mai costretti a fare una cosa c'è sempre l'alternativa che a volte non ci piace perché è più dura è più difficile è più complicato ma si può sempre scegliere sempre continuamente e quindi cerco di trasmettere questa positività restando cercando di dimostrare con i fatti che la cosa è possibile continuando a essere utile quindi ancora collaboro con la magistratura per altre operazioni altre confischie qualche anno fa abbiamo demolito quella villa dei pesci che nessuno voleva demolire dove i bandi andavano deserti neanche il genere militare ci andò perché aveva chiesto 250 mila euro per demolire quella casa metto sempre sbucciardo tutti i codici etici protocolli di legalità che sono solo chiacchiere e fumo non per ultimo anche nel terremoto di amatrice dove mi propose ad andare gratuitamente a fare a togliere le magiere che ancora sono là e non mi hanno voluto perché la mia presenza dice che crea disagio dicono loro insomma e quindi si continua su questa strada affinché si capisca che non ci sono più alebi noi viviamo in un territorio che ha delle potenzialità inimmaginabili inimmaginabili siamo seduti su questo minero d'oro e la sappiamo sfruttare se si aspetta ancora che arrivi la fatina con la bacchetta magica questa terra non emergerà non dobbiamo o quantomeno dobbiamo cercare e lo possiamo fare che i nostri giovani le nostre eccellenze nei nostri cervelli i nostri imprenditori prima sentivo l'imprenditore che c'è stato prima i cui due elementi fondamentali sono passione e entusiasmo senza passione entusiasmo non si va da nessuna parte restino su questa su questo territorio perché c'è il lavoro ma il lavoro lo crea l'imprenditore il commerciante l'artigiano non lo crea lo stato lo stato può fare solo repressione ma la con la repressione che anche se è necessaria non si risolvono i problemi se non c'è la complicità del cittadino se non reagisce il cittadino perché l'errore più grande che commette quello di non fare niente pensando di poter fare troppo poco non è così ognuno di noi può fare tantissimo non mi dilungo se non qua ho risposto alla domanda che non mi ricordo io lo ascolto sempre con anche perché vi ripeto conosco la sua storia lui dice bene alcune cose però so che i passaggi che ha fatto sono passaggi che hanno scritto una pagina importante in questa regione e che sono punto di riferimento ad esempio anche per quelli che poi decidono di prendere questa strada ma perché Gaetano ancora oggi prima ne discutevamo alla mezza hanno arrestato il goto delle cosche la metine insomma quando c'è un fatto delittuoso la magistratura scova i colpevoli insomma si sta facendo un grande lavoro perché ancora gli imprenditori in realtà come la mezza e in realtà la calabria non denunciano non seguono questa strada ma adesso si chiede a chi non denuncia il mio il mio pensiero è che ripeto se non per voler dire che ho fatto qualcosa di eccezionale ma oggi i tempi sono molto diversi ed è quasi una passeggiata rispetto ad allora oggi non ci sono più alibi perché comunque lo stato se vuoi ti trasferisce in località protetta ti dà il mantenimento per vivere ci sono le associazioni antimafia ci sono ci sono un sacco di cose che che per cui non ci sarebbe motivo il fatto è che i valori morali sono ormai spariti dalla dalla mente delle persone e molti quelli che dici imprenditori io toglierei l'imme sono più che altro prenditori perché pensano a profitto piuttosto che alla crescita della propria azienda non denunciano per convenienza perché non conviene denunciare e questo qualche noi non so i cittadini che sono qua che mestiere fanno che attività svolgono ma vorrei porre la loro attenzione che questo non è un problema di saffiota dell'imprenditore ma è un problema del cittadino perché dovete sapere che ogni commerciante ogni artigiano ogni imprenditore oggi non paga più il pizzo fa solo un giro conto i soldi che vanno alla criminalità sono soldi vostri perché quando andrete a comprare un paio di scarpe quel commerciante ci avrà messo qualche ora in più che serviranno a pagare il pizzo quando sull'autostrada 3 vedete del cemento del potenziato è perché quell'imprenditore per dare i soldi alla criminalità avrà fatto la crescita sulle forniture sulla sulla tipologia del materiale a spese della cittadinanza perché siete voi cioè siamo ognuno di noi che procuota contribuiamo a pagare il pizzo la tangente la corruzione siamo noi che paghiamo proprio coloro che penso di essere esenti da questo problema immuni c'è qualcosa che dice a me che mi frega a me non mi toccano per me tutto va bene no è sbagliato attenzione perché quando crolla un ponto crolla una scuola e ci muoiono delle persone poi ci indigniamo ma dove eravamo prima la vita forse vedete non vi darà mai l'occasione di dimostrare quanto siete coraggiosi o quanto siete eroici ma tutti i giorni tutti i santigiorna ognuno di voi da una possibilità altrettanto importante quella di dimostrare di non essere dei vigliacchi girando la testa da un'altra parte la lezione di concretezza di Gaetano Saffioti del quale nel momento in cui ci siamo conosciuti nel senso vero e proprio insomma di persona mi ha impressionato un particolare molto spesso i particolari danno anche il senso danno anche il vero valore dell'uomo parlavamo di media parlavamo di interviste c'era anche la nostra amica Maria Pia tu a un certo punto dicevi che non ne volevi fare più che volevi un po diciamo estranearti e questa è una cosa che mi è molto piaciuta perché si rischia di entrare in un circolo mediatico che diventa inevitabilmente anche vizioso si rischia di fare la madonna pellegrina si rischia di essere narrati ancorché raccontati no come eroe come remiurgo della dell'antimafia tutte cose che Gaetano Saffioti non ama e arrivò a dire appunto pochi minuti fa pochi istanti fa io non amo neanche essere intervistato ma non per un fatto di snobbismo io credo anche per quella ragione di pudore ci deve essere anche il pudore alcuni si fanno prendere la mano questo deve essere anche un momento di verità alcuni non riescono a resistere alla opportunità di enorme visibilità mediatica con tutti gli annessi e connessi che una botta appunto di visibilità di popolarità da loro malgrado ecco Gaetano Saffioti invece c'ha il mantenimento di questo pudore il pudore della concretezza il pudore di chi gestisce un'impresa anche importante di un'impresa anche difficile tu ti occupi di movimento terra diciamolo ai giovani anche di movimento terra Gaetano e a proposito di movimentazione io dico quando tu pensi alle conseguenze che il tuo caso ha creato ha generato nell'ambiente in cui vivi e non solo hai l'idea che qualcosa in senso positivo sia stato movimentato a livello innanzitutto di coscienza e poi volevo chiederti rimanendo sempre su questo filone a distanza di anni hai l'impressione che la qualità delle risposte giudiziarie delle risposte istituzionali al tuo dramma al tuo sacrificio non all'atto d'eroismo ma al tuo sacrificio sia stata all'altezza noi siamo la patria di un diritto che a volte è rovescio lo sappiamo bene quindi so bene che magari le aspettative potevano essere altre ma la qualità delle risposte istituzionali c'è stata c'è che differenza c'è tra le risposte che tu ottenevi un tempo e quelle di oggi e quante te ne aspetti ancora mi hai fatto tanto che si ricorda tutte queste cose cercherò di dire delle cose che possono interessare ai cittadini insomma io non è che non voglio fare più interviste eccetera perché penso semplicemente che ormai oggi non ci sia nient'altro da scoprire anche perché grazie a internet eccetera basta schiacci un pulsantino e sai tutto mentre una volta c'era ignoranza nel senso che si ignoravano e non c'era comunicazione dico oggi che bisogna ancora c'è di dire sembra quasi una sorta di ecco non voglio fare protagonismo di autocelebrazioni e cose varie cerco solo di smontare quelli che sono dei dubbi oppure quantomeno togliere dei dubbi alle persone quindi l'ho già dimostrato quei fatti penso abbondantemente anche quando dicono ma sai io vorrei fare però non sono coraggioso ecco smontiamo anche questa cosa del coraggio per denunciare per cambiare per essere liberi non serve il coraggio serve avere paura perché la paura è una cosa importante qualcuno pensa di se io dico che ho paura su mi dovrei vergognare no è quasi qualcosa di di negativo invece la paura è importantissima perché bisogna già distinguere fra paura intesa come timore e paura intesa come terrore non bisogna avere il terrore che ti porta nel panico ma la paura come timore affinché tu possa affrontare il problema e vincerlo e allora qualcuno dice sì però poi mi possono ammazzare le ritorzioni per del lavoro le marginazioni eccetera eccetera sì è vero ci sono queste cose c'è questo problema c'è questo pericolo ma cosa vi fa più paura avere ritorsioni perdere il lavoro o vivere col rimorso di non aver fatto niente per cambiare le cose e lasciare le nuove generazioni questo mondo malato e in mio caso è stata la seconda io credo che questo dovrebbe smuovere qualsiasi coscienza basterebbe seguire la semplice regola delle tre r rispetto per se stessi rispetto per gli altri responsabilità per ogni azione non ci vuole molto non è difficile è semplice basta basta solo volerlo ora qual è la domanda che non mi ricordo no se ci sono state le risposte istituzionali giudiziari all'altezza di quelle che ti aspettavi ma l'ho detto lo Stato fa repressione non chiedetevi lo Stato cosa può fare per te ma cosa tu puoi fare con lo Stato lo disse un grande un grande un grande presidente quindi dovete fare fate fare così certo bisogna fidarsi darsi alle istituzioni non in tutti gli uomini che la rappresentano perché purtroppo ne ha avuto esperienza ma ricordate comportatevi un po come gli uccelli che quando si poggiano sul ramo di un albero non hanno mai paura di cadere perché la loro fiducia non è nel ramo ma è nelle loro ali quindi prima di tutto dovete avere fiducia in voi stessi e poi anche nell'istituzione è chiaro che quando si fa una scelta come disse Falcone a volte si preferisce lamentarsi piuttosto che fare e io ho modificato un po' un detto anche che è molto conosciuto bisogna rinunciare a qualcosa non è tanto sacrificio rinunciare a qualcosa perché deve essere chiaro che non si può avere la botte piena la moglie ubriaca a vigna caricata e ho figli a stemio a qualcosa bisogna rinunciare però se poi il fine cioè quello a cui noi aspiriamo ripeto soprattutto per i giovani cioè per ogni genitore degno di essere genitore penso che farebbe tutto per i propri figli no quindi teneteli per mano seguiteli perché i nostri figli saranno persone per bene o delinguenti a seconda delle nostre della nostra educazione poi è chiaro che la chiesa la politica la scuola ognuno deve fare la sua parte a volte a me dispiace sentire qualche ragazzo dice io mi vergogno di essere calabrese per alcuni fatti che magari non entro nel merito bene noi dobbiamo portare i nostri ragazzi innanzitutto a dire che io sono orgoglioso che mio padre è una persona per bene che credo che sia una cosa fondamentale ma andando in giro per il mondo non dovrà mai abbassare lo sguardo e guardando negli occhi di chiunque dovrà gridare con fierezza di essere calabrese deve essere fiero di essere calabrese mai vergognarsi chiudiamo chiudiamo vi dico soltanto la risposta ad una domanda di una giornalista che gli ha chiesto ma perché lei rimane in calabria e non se ne va la risposta di che è stata perché questo è il mio cielo questo è il mio mare e questa è la mia terra gaetano saffioti il sindaco il sindaco l'avvocato luca marrelli per questo primo premio dell'edizione muricello 2018 a gaetano saffioti con la motivazione che adesso il sindaco naturalmente con emozione con gioia sentire queste parole di coraggio di un uomo che ha dimostrato con i fatti ha detto no al pizzo alla criminalità e sappiamo che l'andrangata oggi è l'organizzazione più potente allora la motivazione è la seguente per aver saputo rendere la lotta all'andrangata combattuto ogni giorno con coraggio e dignità un atto d'amore verso la calabria e la libertà della sua gente grazie diamoci in favore di camere e telecamere per questo momento di premiazione al muricello 2018 grazie gaetano saffioti per una testimonianza che abbiamo accolto con anche noi con spirito di concretezza grazie grazie a voi grazie sindaco antonio e è venuto a sorpresa a trovarci io non me l'aspettavo però è importante eh salutarlo il membro della commissione cultura della camera di deputati l'onorevole furguele che volevo salutare eh onorevole l'abbiamo un po così vista dal pubblico è una è una bella sorpresa una parola una parola perché ricopre un ruolo importante all'interno della commissione cultura ebbe questo è un premio che è arrivata alla sua sesta edizione e l'onorevole furguele certamente porterà anche questo premio nella sua attività grazie buonasera a tutti eh innanzitutto complimenti complimenti per questa prima edizione del premio muricello io sono venuto molto volentieri perché quando si parla di cultura insomma soprattutto d'estate a determinate latitudini qualcuno penserebbe come a sostenuto chi magari mi ha preceduto che possa essere anche impossibile no invece accadono anche queste cose in Calabria non solo le esperienze che purtroppo ha raccontato chi ci ha preceduto eh momenti di cultura importanti momenti di cultura che sicuramente vanno valorizzati e che narrano di una Calabria che probabilmente può cambiare e che narrano di una Calabria che può dare tanto altro rispetto a quello che nell'immaginario collettivo viene raccontato del nostro territorio io faccio i complimenti agli organizzatori non è facile insomma eh interessare le persone di cultura eh d'estate così nel pieno dell'estate eh faccio i complimenti a chi mi ha preceduto a chi è stato premiato chi verrà premiato ho sentito parlare eh di imprenditoria che eh è molto coraggiosa farla qui in Calabria ho sentito parlare di editoria che è un tema molto importante dobbiamo ricordare che bisogna tutelare il diritto ad informare ma bisogna tutelare anche il diritto ad essere informati quindi eh approfondire quello che eh è la macchina del fango che spesso e volentieri viene utilizzata per combattere dei nemici e non sempre viene utilizzata diciamo l'editoria per fare un'editoria di qualità e per informare effettivamente le persone noi stiamo lavorando nella commissione cultura molto alacremente anche a questo quindi stiamo lavorando sul eh eh l'album dei dei giornalisti su quello che è quella parte insomma che il ministro eh i sottosegretari stanno stanno analizzando e su tante altre cose che riguardano il nostro territorio ce la mettiamo tutta con questo nuovo governo abbiamo prontato nei primi sessanta giorni una serie di iniziative i cui effetti probabilmente si riververeranno e speriamo positivamente sul nostro territorio nel più breve tempo possibile ci sono tante altre iniziative a proposito di eh di mafia il quindici agosto il nostro ministro degli interni verrà direttamente per portare una sua testimonianza per venire a toccare con mano quello che è la realtà eh è un po' il suo modo di fare no? Quello di non attenersi a quelle che sono diciamo eh le voci che arrivano o magari anche solo gli articoli di giornale ma venire proprio a sacrificare una giornata importante magari della della propria vita o della propria stagione estiva per venire a passarla con con i territori grazie grazie onorevole buon lavoro in una commissione centrale per lo sviluppo della cultura e della divulgazione scientifica oltre che per la scuola Antonio Domenico però permettimi io mi auguro che il ministro degli interni si occuperà di meno dei vucun prae un po' di più di di problemi molto seri che ci sono come quelli della criminalità eh organizzata in in Calabria perché l'altro giorno come tu ben sai hanno ucciso in 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 spiaggia ovviamente c'è la rete eh chiaramente ehm esagera in tutta una serie di condizioni ma tu sai che in spiaggia hanno ucciso eh una persona ehm e il problema non è soltanto l'atto eh di criminale che è stato compiuto ma il problema è che quello è stata una tentativo e un chiaro atto intimidatorio dire alla società di quel territorio guardate che noi facciamo quello che vogliamo senza interessarci di nulla ecco magari se si pensasse un po' di meno a quei poveri cristiani che vendono le cose in in sulle spiagge e un po' di più invece a queste gravissimi episodi che si verificano sarebbe una cosa opportuna ma questo hai ragione tu eh la valutazione dell'azione governativa tu sai che io e te abbiamo un rapporto di grande franchezza personale è una cosa che poi dovrà essere valutata con il tempo io mi auguro che Matteo Salvini che è sicuramente lontano da logiche di questo genere sappia fare il ministro degli interni in questi anni con con l'obiettivo principale di di distruggere quello che è il cancro di questa nazione e soprattutto del sud che è la criminalità organizzata io ti ringrazio però per la per essere stato qui presente perché comunque un atto di attenzione tu sei una persona sai che ci conosciamo da molto tempo e ti riconosco tante eh battaglie il coraggio di aver preso delle posizioni in in momenti molto difficili mi sono permesso di come dire esprimere questa mia valutazione perché conosci anche qual è la mia posizione su determinate le cose per intanto grazie di essere stato presente qui con noi e noi continuiamo con l'ultima con l'ultima ok poi abbiamo fatto una bella parcondicio Bausone Forgioele eh Bausone del Partito Democratico lo ha accompagnato anche Totò che qui lo vedo qui davanti a me che è una persona a cui voglio un bene dell'anima perché lo sa noi spesso ci scontriamo sulle posizioni ma lui sa che ho un affetto nei suoi riguardi enorme perché è una persona per bene un grande combattente e ce ne fossero ce ne fossero di 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 questo genere in giro però chiuso questo capitolo noi andiamo alla conclusione perché poi dovremmo passare come è giusto che si è dedicare il tempo necessario ai nostri ragazzi noi abbiamo cercato di fare in maniera più breve possibile il nostro percorso ma sapete che non è facile anche perché eh avere per esempio come eh tra di noi ma gente come come Alessia come Agostino eh come vedrete adesso Angelica ma Gaetano Saffioti a cui lui mi mi diceva prima Antonio io non so non so parlare vabbè forse tu ti ascoltavo con gli occhi di fuori perché ogni volta che lo sento è un grande piacere chiudiamo la questione del premio Muricello in modo da dedicarci poi ai ragazzi con il riconoscimento ad Angelica Artemisia Pedatella Angelica Artemisia Pedatella beh più che chiudiamo apriamo degli orizzonti lo lo chiudiamo nei tempi ma Angelica Artemisia Pedatella è una chiave per aprire in questa bellissima terrazza in questo bel vedere e nuovi mondi culturali lo facciamo in pochi intensi minuti ma lo facciamo cercando di portare alla vostra conoscenza un'attrice una scrittrice una sceneggiatrice una persona un artista tutto tondo ehm al di là di quella che l'elencazione dei titoli che eh il presentatore il giornalista nel momento in cui introduce un ospite deve per forza fare perché è giusto eh eh illuminare le persone che ci sono venute a vedere su quale sia la consistenza di Angelica Artemisia Pedatella ecco al di là di questo noi abbiamo a che fare con una personalità che nonostante sia così giovane ha un grande cursus honorum come dicevano i i latini alle spalle fatto di tanta arte di tanta classe attoriale fatta di classici fatta del coraggio di di riportare Shakespeare i vari classici in vita attraverso delle performance di cui non bisogna assolutamente vergognarsi prima parlavamo del pudore e il pudore nel teatro quest'arte che tu mastichi alla grande Artemisia negli anni ha portato molte compagnie molti registi molti attori a eh cercare forse di alleggerire l'imponenza eh di grandi autori come Shakespeare dico Shakespeare ma potrei dirne anche altri e cercando di innovarli cercando di restailizzarli cercando a mio parere anche di sminuirli tu invece mi dicevi una cosa mi hai sempre detto una cosa noi dobbiamo avere il coraggio di riportare sul teatro la grandezza soprattutto a beneficio dei giovanissimi che devono conoscere le opere e noi attori noi che operiamo nel campo teatrale non solo dobbiamo cercare loro di farglieli capire attraverso certo l'interpretazione ma anche attraverso dei momenti guidati quindi con l'associazionismo con la collaborazione continua delle scuole Angelica Artemisia un artista dunque Angelica Artemisia Pedatella un artista a tutto tondo di Cleto Cleto è qui a pochi passi da noi Antonio quindi anche un modo per rinverdire un gemellaggio culturale e geografico con quella bella cittadina tu sei tante cose e sei anche altro adesso però tocca a te dire la tua e dirci sediamoci in che cosa in questo periodo particolarmente importante e laborioso per un artista come te ti stai applicando grazie intanto grazie per avermi fatto essere qui che è un regalo grandissimo e soprattutto io voglio ringraziare le persone che mi hanno preceduta perché io già ero onorata di ricevere questo premio che so che ha un grande valore però la presenza delle persone stasera hanno dato ancora più valore il selfie devo anche cercare di essere carina ho sentito con la bocca storta però veramente penso che quando uno riceve un premio viene preceduto da persone dello spessore che io ho visto io voglio ringraziarli perché mi sento veramente molto piccola in più ho avuto il piacere io non lo sapevo che avrei ritrovato qui delle persone con cui ho avuto a che fare in passato per motivi di lavoro professionali agostino pantano mi fece una battuta meravigliosa e anche un'intervista e trovarlo qui stasera veramente io sono felice sì io non lo sapevo non era ovviamente organizzato è proprio il caso Alessia Bausone che è una persona che stimo molto perché si impegna veramente su tanti temi che un'altra persona che io conoscevo sempre per motivi di lavoro e sembra organizzato apposta poi c'è liberi tv che veramente sono nel mio cuore perché stanno cercando di seguire tutto quello che cerco di fare in Calabria io e poi insomma non so che parole esprimere per l'imprenditore Saffioti che mi ha preceduta e veramente io lo devo ringraziare perché dice delle parole importantissime io vivo a Roma almeno io ho sempre vissuto a Roma da qualche mese a questa parte ho deciso di cercare di tornare in Calabria proprio per le stesse motivazioni che è l'imprenditore di cui l'imprenditore parlava perché questa terra è bellissima perché ha tantissime potenzialità però ci vuole un po' di coraggio per venire qui e cercare di fare delle cose ovviamente per il mio mestiere Roma è facile è più facile non è facilissima però è più facile solo che Roma non ha le mie radici le mie radici sono qui e quindi ad un certo punto io ho detto ma perché non ci provo anche perché ho conosciuto delle meravigliose persone e quindi appunto come gli appuntamenti combinati ad un certo punto ho detto vabbè proviamoci perché evidentemente la mia terra sta provando a chiamarmi mi darà un sacco di schiaffi lo so già me li sta dando un pochettino però insieme agli schiaffi mi dà anche tante carezze probabilmente perché mi sta facendo imparare qualche lezione fondamentale nel lavoro che io ho già fatto in precedenza io ho anche parlato di carcere abbiamo avuto modo di dialogarne anche dei libri scritti su questo tema io mi sono sempre resa conto che dietro delle grandi disgrazie ci sono dei grandissimi insegnamenti io penso che saffioti nel dire quello che diceva stava in qualche modo lanciando questo messaggio con il cuore che dietro veramente il coraggio enorme che ha avuto lui pensa di non essere un eroe ma tutti noi siamo eroi tutti i giorni quando siamo in grado di seguire la coscienza dietro la sua vicenda c'è un insegnamento meraviglioso io nel suo modo di parlare scorgevo proprio la passione e l'amore per le difficoltà perché le difficoltà ci ci fanno capire chi siamo per questo motivo io sto cercando di tornare in calabria che cosa ho fatto ho tentato con un mio collega una persona straordinaria e che vive alla mezza quindi stiamo creando un gemellaggio diciamo tra tra tutta la calabria lui si chiama vincenzo pupello abbiamo creato insieme una compagnia teatrale la compagnia teatrale bia 17 poi dopo possiamo anche raccontare che significa bene questa compagnia teatrale sta per esibirsi in una manifestazione insieme a delle artiste internazionali che vivono all'estero ma hanno origini calabresi perché quello che stiamo cercando di fare è creare una compagnia calabrese internazionale che sembra uno simoro in realtà noi abbiamo un sacco di talenti che stanno all'estero e potrebbero essere un network fondamentale per la calabria però dobbiamo cominciare a creare delle occasioni appunto uno spettacolo che non è un semplice spettacolo una giornata dedicata al tema della natura della salvaguardia dell'ambiente della sostenibilità dell'industria sostenibile parleremo nella fattispecie di come sia possibile produrre materiali tessuti per l'industria della moda sostenibili in particolar modo io sono stata colpita seta non violenta esiste un metodo di lavorazione della seta che non danneggia il baco allora di queste cose bisogna parlare contestualmente ad uno spettacolo perché lo spettacolo ci dà la magia ci affascina ci fa entrare dritti in quel tema e poi la nostra mente ha bisogno di cogliere una serie di spunti che l'impatto emotivo non sempre ci permette di razionalizzare quindi quello che stiamo cercando di fare e parlo al plurale perché io mi sento solo una rappresentante di questo diciamo piccolo movimento culturale che stiamo cercando di portare avanti con appunto con queste artiste internazionali con vincenzo pupello con gli artisti che partecipano ora a questo evento e poi c'è appunto il teatro al di là di quella che è l'innovazione a cui Angelica e altri stanno lavorando perché sarebbe bellissima questa compagnia teatrale internazionale e voi potreste fare qualcosa di vostro però nonostante la vostra bravura nonostante i vostri impegni pensate in grande e questa è una cosa che vi dà già grande grande merito io adesso però ti chiedo un momento tutto tuo che diventerà inevitabilmente tutto nostro che c'è un pezzo bello modologo possiamo chiamarlo sulla violenza sulla violenza in genere e che fa parte di un lavoro che voi state portando in giro e uno sprazzo io chiederei ad Angelica di recitarlo qui proprio al muricello 2018 un attimo di silenzio atmosfera Angelica Artemisia Pedatella la scena è tua grazie io lo lo devo presentare un attimo e poi mi alzo questa sera ovviamente siamo in calabria affrontiamo le difficoltà noi parliamo continuamente di violenza cosa che secondo me noi dovremmo trovare un'altra parola invertire il diciamo il discorso però io ho fatto un un'esperienza da cui è nato un libro un progetto in carcere beh ho incontrato tra le varie persone una detenuta che mi ha spiegato cos'era la violenza scrivendo un testo su cui io non ho mai apportato alcuna modifica vi regalo questa sera la consapevolezza che mi ha dato questa persona spiegandomi esattamente cosa è la violenza e una volta che noi l'abbiamo capita sappiamo cos'è dove si trova e sappiamo anche come combatterla la guardia apre la porta entriamo la guardia chiude la porta avanziamo di cinque passi un'altra porta la guardia la apre la guardia la chiude ci troviamo in un corridoio camminiamo cinque passi dieci passi venti ventidue forse ventitré la guardia apre la porta entriamo la guardia chiude la porta questa è la prima cosa che imparo di questo posto alle tue spalle le porte devono essere sempre chiuse ti lasci indietro dighe serrate al tuo passaggio si sussegue un dominio di ferro a rimarcare che hai perso il diritto di girare la maniglia ora siamo in uno stanzino senza finestre solo alla luce del neon asettica chirurgica a rendere reale lo squallore e mi assale un puzzo di chiuso umido e muffa ma mi colpisce la vita negli scaffali che riempiono le tre pareti valigie borsoni scatole di cartone e buste tante buste ognuno di questi contenitori è contrassegnato da un nome per un attimo respiro mi tranquillizzo guardando i segni di altre presenze non sono sola penso con una felicità egoista ci vive qualcun altro in questo posto è come un soffio mi attraversa l'idea che quella raccolta di cose altrui distribuita lungo le tre pareti non testimonia la vita ma l'attesa si spogli mi dice lei donna come me è di fronte alla mia inerzia mi ripete si deve spogliare la devo perquisire la risposta che mi rotola dalla bocca è strana lontana si limita a un come di molteplici interpretazioni lei ha un moto di stizza intuisco che non sa se la mia è ostilità e potrei crearle dei problemi o semplice stupidità e le potrò creare una perdita di tempo sfoglia un enorme registro e la mia domanda frena la sua mano un foglio rimane sospeso in verticale ma non alza gli occhi non mi guarda decide comunque di far compiere al foglio quel destino per un attimo interrotto da me gira la pagina e mi dice sospirando si deve togliere tutto le scarpe la maglia i pantaloni le calze il reggiseno le mutandine le mutandine un diminutivo una parola che è un vezzeggiativo mi fa salire da un profondo un conato di vomito le mutandine è una parola che implica intimità detta ora in questo posto mi fa paura è stonata una parola quattro sillabe che mi scioccano presagio di tutto quello che perderò comunque mi piego sì lo faccio non protesto non ribalto non allontano l'umiliazione mi piego slaccio le scarpe gli ultimi fili che mi tengono ancora fuori da tutto questo chissà perché mentre compio questo rituale di separazione dalla mia vita mi rifugio nel ricordo di mio padre lui che posa sulle mie mani di bambina ancora inadatte a contenere e preservare due ricci di mare appena raccolti mi dice di mangiarli così come sono vivi io seduta su uno scoglio lui chino sull'acqua intorno a noi l'odore della vita umida mi spiega come vanno aperti mi insegna come li devo assaporare piano mi dice se no non senti il sapore del mare io sono felice il mare mi piace ritorno dove sono e sono nuda nuda la mia pelle nudimi nei nudimi i peli le mie ossa mi guardo i piedi sono blu ho freddo e ho paura questa paura è nuova non l'avevo mai provata una paura così inizio a contare uno due tre disolgo lo sguardo dalle mie dita blu quattro cinque sei e lo fisso sulle mani della guardia che tengono il mio reggiseno lo tastano con perizia con cura sette otto nove ah stai qui irrompe la voce di un'altra guardia per un attimo credo che quella domanda michevole sia rivolta a me sono lì lì per risponderle entra anche lei chiude la porta non mi guarda pensavo fossi già andata via non è finito il turno l'altra rigira il mio reggiseno all'infinito e risponde che no stava per staccare ma poi hanno portato questa non mi guardano dieci undici dodici dai ti aiuto prende la mia maglia inizia anche lei il rosario di ispezione sulle cuciture tredici quattordici quindici rimango impalata in attesa che mi dicano che ne devo fare del mio corpo nudo parlano della loro vita della loro stanchezza di quell'altra collega che se la svigna sempre prima e non fa mai niente hai capito? oggi è successo di tutto non ho neanche mangiato sedici diciassette bisogna parlare con il commissario diciotto diciannove ora la prima guardia ha lasciato andare il mio reggiseno mollemente sul pavimento e quello mollemente si adagia la sua mano agguanta i miei pantaloni inizia di nuovo il pellegrinaggio delle cuciture 20, 21, 22 deve fare la flessione dichiara con voce monotona chissà quante volte l'ha detto non mi guarda 23, 24 deve accovacciarsi e tossire per tre volte niente musica nelle sue parole nessuna espressione non mi guarda cosa devo fare tre volte? tossire? accovacciarmi? ho tutte e due le cose se solo mi guardasse troverei la forza di chiederglielo ma non mi guarda 25, 26, 27 piego le ginocchia punto i piedi tossisco e mi faccio pena per tre volte non mi guarda 28, 29 che paura ho se capissi cosa mi fa paura forse riuscirei a controllarla farmela passare 30, 31 non è paura di loro delle due guardie che si stanno esibendo di fronte a me nella pornografia del controllo chiacchierano non sembrano intenzionate a picchiarmi e allora che cos'è questo panico che cresce? 32, 33, 34 sono ancora accovacciata ed è così che mi trova quella consapevolezza densa quella certezza collosa che non mi abbandonerà per molto tempo con uno strappo che è il suono di uno stridore dentro di me si sblocca la confusione e lucidamente capisco loro non mi vedono mi rivolgono la parola ma non posano mai i loro occhi sui miei 35 36 37 sono uscita dal mondo 38 39 40 il mondo è autorizzato a non guardarmi a non salutarmi a non ringraziarmi a non ascoltarmi comprendermi 41 42 43 il mondo è legittimato a fare a meno della cortesia con me si giri rimanendo accovacciata non l'ho vista dice la seconda guardia punta i suoi occhi sulle mie ginocchia e diligentemente mi spiega la formula del non senso devo controllare se ha qualcosa infilato nella vagina o nell'ano su si sbrighi si metta di schiena 44 45 46 47 e lì faccio la mia scelta voglio essere cortese con me mi sollevo e 48 49 50 51 dico no come no alza il tono e stridula finalmente un po' di musica nella sua voce finalmente un'espressione rifaccio le flessioni e tossisca non mi faccia perdere tempo io non l'ho vista 52 53 54 55 56 sì lo so lei non mi vede rispondo e la mia voce è calma consapevole tenera 57 58 59 60 mi guarda negli occhi fine della paura angelica artemisia pedatella la sua bravura la ragione di questa premiazione di questa presenza così tanto di pregio qui al muricello 2018 invito il sindaco a consegnare il premio c'era prima non vedo il vice sindaco Franco trunzo e c'è il vice sindaco eccolo bene alziamoci per questa premiazione vice sindaco le motivazioni allora ad angelica artemisia pedatello per la capacità di guardare il mondo oltre i confini e le gabbie che l'uomo ha costruito nel tempo grazie una bella foto in questo momento Antonio una foto insieme ripetiamo il click e grazie grazie per questo momento di autentica anche emozione anche emozione e commozione perché ci hai fatto rivivere attraverso la padronanza anche scenica di questo testo situazioni che sembrano lontane situazioni di violenza ma che in effetti purtroppo sono il pane quotidiano io vi ringrazio tantissimo ci tenevo a leggere questo testo che è di una ormai ex detenuta io non credo nella divisione tra buoni e cattivi penso che ci siano persone responsabili e che non si rendono responsabili delle proprie azioni persone che hanno coscienza o non ce l'hanno però tutti hanno qualcosa da insegnare questa persona ha commesso della violenza per questo è stata reclusa ma allo stesso modo ci ha dato l'opportunità di capire cosa è la violenza allora basterebbe guardare le persone negli occhi tanti problemi anche di questa terra forse sarebbero un po' più attenuati e penso che questa sia la cosa più importante l'insegnamento più importante che io ho ricevuto durante i percorsi che ho fatto che bisogna guardare le persone negli occhi grazie veramente grazie ancora la consegna dei riconoscimenti per i nostri ragazzi non a caso siamo tutti qui il presidente del consiglio il sindaco il vice sindaco a testimonianza di un affetto da parte dell'amministrazione nei confronti di questi ragazzi il sindaco bene allora conclusivamente dopo questa serata molto bella un ringraziamento particolare naturalmente ai graditi ospiti che hanno dato lusso e di importanza a questa serata ma non di meno importante questo momento qua cioè il premio Muricello è la sesta edizione ideato magistralmente da Antonio Chiaffallo che ringrazio come ringrazio anche Ugo Floro che conduce sempre con qualità molto brillante questo è un appuntamento che da diversi anni si ripete per noi molto importante di cui siamo orgogliosi penso che sia doveroso da parte di un'amministrazione dare attenzione alle esigenze dei giovani per cui le ragazze e i ragazzi del nostro paese vengono premiati perché hanno terminato un percorso di studi si sono distinti nello studio e quindi ringrazio l'intero consiglio comunale augurando ai nostri giovani ogni fortuna ogni bene ogni successo per un futuro ricco di soddisfazione onde elevare sempre più il nostro paese e renderlo più bello più pulito più vivibile certo hanno ottenuto un risultato importante grazie al loro impegno ma anche delle famiglie che ringrazio perché sono stati seguiti e consigliati da loro e anche dagli insegnanti quindi i giovani devono essere sicuramente rappresentare un valore aggiunto per il nostro territorio la nostra comunità e allora come dicevo prima la cultura non ha recinti non ha colori politici ieri c'è stata una bellissima serata dove abbiamo ospitato insieme al consiglio comunale ricevuto oltre i 100 scrittori perché da San Mango da Quino voglia elevare e partire questo messaggio e bisogna investire in cultura questa amministrazione vuole investire quindi in cultura perché la cultura è un elemento essenziale della nostra società vettore di crescita non solo economico ma anche soprattutto civile perché investire in cultura significa non perdere la propria storia la propria tradizione le proprie identità quindi è un'amministrazione che io ho l'onore di guidare insieme a tanti giovani che hanno messo la faccia e li ringrazio per quello che stanno facendo quotidianamente voglio infine comunicare che siamo riusciti anche grazie all'aiuto del dottor Armando Caputo a recuperare una posizione creditizia del comune nei confronti dell'ex tesoriere del comune di San Mango d'Aquino per cui da qui a poco porteremo a San Mango un patrimonio inestimabile cioè opere d'arte che metteremo naturalmente a disposizione dei cittadini della comunità del comprensorio e anche delle università quindi bisogna puntare sulla cultura sulla danza sulla musica sulla gastronomia noi a San Mango d'Aquino abbiamo anche dei talenti Chiara Angelica tu parlavi prima di rete sono stato attento perché vi faccio i complimenti per il coraggio perché si parla di diritti civili si parla di libertà di stampa si parla di dire no con convinzione e con forza l'imprenditore che dice no al pizzo alla mafia all'andrangheta nella fattispecie significa che la dignità umana per l'imprenditore è più importante o quantomeno equivale alla libertà abbiamo udito sentito la tua lettera di una detenuta che spiegava bene il concetto di violenza di paura ma anche di libertà che poi è il principio più importante dettato anche dalla Costituzione per cui grazie a tutti grazie agli ospiti grazie a tutte le famiglie di San Mango d'Aquino e possiamo iniziare allora caro Antonio a premiare i ragazzi di San Mango del nostro paese che si sono distinti come ho detto prima nello studio diplomati e laureati si parte con i diplomati avevo visto Teresa Teresa qui tra in cosa pregherei di venire qui insieme a noi così consegniamo i riconoscimenti il primo Vittoria Gallo Vittoria Gallo fa parte dei diplomati o laureati diplomati diplomati in cosa ragioneria va bene ha intenzione di proseguire di andare all'università cosa psicologia ah psicologia ok complimenti è una bella è una bella auguri allora qui abbiamo una doppia premiazione peraltro che credo sia la prima volta che ci capita intanto chiamiamo qui Ilaria Ferrari la vedo bella sorridente come sempre quindi già questo è un biglietto da visita allora sono due premi per il diploma e per aver superato per aver superato l'ottavo corso della tecnica moderna di danza complimenti te le devi tenere prego Aldo Aldo ecco qui auguri di lario complimenti angelo manfredi sempre per i diplomati angelo ciao caro tanti auguri buonasera grazie teresa la stanchezza si comincia a presentire veniamo da due giorni intensi qui veramente auguri paolo paolo ferlaino ah viene la sorella maria cristina vieni maria cristina vieni come non la foto pure tu forza forza con noi con noi forza forza non c'è ah è a new york quindi difficilmente riesce a tirare il premio stasera l'anno prossimo voglio quello di architaglio Nicola Damo vieni Nicola il presidente del consiglio prego Nicola diploma in perito meccanico benissimo caro in bocca al lupo serena notarianni diploma in scientifico liceo scientifico il mio istituto ma alla mezzi a cosenza va bene prego chi diamoci il cambio con Franco attenzione attenzione complimenti in bocca al lupo angelo pantano c'è stasera qui pure tra i in che cosa meccanico meccanico benissimo teresa prego prego ma ma non c'è simone sabrina sabrina pugliano complimenti adesso vorrei sapere se sabrina chi chi la prego posso scusa no 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 grazie no niente no 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 la mamma prego damiano moraca damiano moraca damiano non c'è Giovanni Fiorillo la prima cosa che gli invidio sono i capelli la capiglia quindi allora Giovanni in cosa perito informatico hai intenzione di continuare o cosa ancora stai valutando in bocca in bocca al lupo a damiano caro tanti auguri a Giovanni c'è qualcuno che vuole venire al posto mio perché mi pare che le batterie sono esaurite come si chiamava quello che faceva sempre quelle gaffe in televisione che ora mi sfugge che è diventato storico vabbè giurato lo che ha giurato alla grande proprio ragazzi stasera in bocca al lupo caro mio i laureati sono giuseppe bartolotta non c'è giuseppe no martina sacco martina la premia auguri martina grazie possiamo chiedere adesso ai nostri premiati di darci una mano d'aiuto nel consegnare questi riconoscimenti ai laureati che come sapete adesso iniziano con un percorso di vita piuttosto intenso perché la laurea è un obiettivo che è uno spartiacque Chiara Ferlaino Francesco ah c'è il papà però me lo dovete consentire ma la voglio fare io questa premiazione con grazie giuseppe costanzo ecco il secondo padre giustamente Luca prego allora questo è per giuseppe costanzo laureato in ingegneria ma guarda con il massimo auguri auguri un abbraccio a giuseppe Fernanda Gigliotti Fernanda vieni vieni anche qui abbiamo un 110 posso chiedere ad Angelica di venire a consegnargli prego Marco Pugliano Gaetano ti posso chiedere la cortesia perché so che a Marco fa molto piacere molto teresa Isabella non c'è teresa mi pare che non ci sia giuseppe cimini teresimo prego c'è qualche problemuccio adesso quindi dobbiamo Stefano è sposato grazie a tutti ma Luigi Torquato c'è qua che so che adesso che ho letto il suo nome me ne sta mandando di tutti i colori è qua è qua Luigi Torquato eccolo qui ma Agostino c'è dove è Agostino Agostino si è spostato la foto Agostino Agostino vieni Bruno Arcuri Bruno Arcuri viene la sorella Bruno è fuori Bruno peraltro sarebbe il figlio di di Franco è il figlio è il figlio Maria Cristina Ferlaino Maria Cristina Ferlaino è tornata a volte torna due lauree Ugo vuoi prego Elena Moraca Elena prego il sindaco in cosa ti sei laureato lingue e culture moderne lingue e culture moderne in bocca al lupo Luisa Notarianni non c'è Giada Orlando Giada Orlando Angelo Sposato operatore giuridico di impresa maresciallo della Guardia di Finanza ah ecco maresciallo della Guardia di Finanza sindaco prego in bocca al lupo ne avrai parecchio di lavoro da fare augurimi grazie Marco chi è fallo mi pare che non c'era no mi pare che non c'era Luigi Notarianni credo non ci sia ma lo nominiamo lo stesso e gli mandiamo gli auguri insieme agli assenti di stasera applausi mi ho finito quindi allora la serata si è chiusa io intanto grazie grazie davvero di aver partecipato speriamo di avervi dato un momento di soddisfazione per le famiglie per i ragazzi che si sono diplomati e laureati spero di essere riuscito insieme all'amministrazione ad Ugo di darvi anche qualche momento di riflessione con i nostri ospiti che ringraziamo per essere venuti qui e avervi condiviso con noi questa serata da settembre abbiamo parlato l'altro giorno con l'intera giunta i consiglieri comunali che peraltro io voglio ringraziare davvero perché guardate che prendersi sulle spalle i comuni l'amministrazione dei comuni oggi è veramente una cosa difficile credetemi c'è da spaccarsi la schiena i soldi sono pochi le responsabilità tante spesso anche un piccolissimo errore può indurre situazioni spiacevoli quindi l'assunzione di responsabilità è tanta loro stanno facendo un buon lavoro e devo dare merito al sindaco Luca Marella di un fatto che credo sia veramente un dato molto positivo cioè la voglia e la volontà di dividere il lavoro di includere il più possibile tutti quelli che si sono assunti la responsabilità di rappresentare i cittadini di San Mango di renderli partecipi anche responsabili del lavoro che si andrà a fare questo è un buon inizio perché la compartecipazione dell'attività amministrativa è un fatto estremamente importante sono un gruppo di giovani che hanno voglia di fare non hanno nulla da chiedere non hanno interessi da tutelare vogliono e credo che ci riusciranno perché le premesse sono positive lasciare un segno importante nella storia di questo comune quindi ringrazio loro per quello che stanno facendo per averci dato una grande mano d'aiuto e condiviso con noi il lavoro di questa sera ringrazio Ugo Floro che ormai è di casa con lui condividiamo anche quando siamo in disaccordo su alcune cose per corsi di vita da tempo in memore noi abbiamo messo nella locandina conduce Ugo Floro ma non è il termine esatto perché Ugo non conduce questo premio ma lo condivide lo asseconda lo sponsorizza e lo consiglia e devo dire che grazie al suo lavoro stiamo ottenendo ottimi risultati da settembre si apre un nuovo capitolo che renderà sempre più partecipi i cittadini di San Mangodacuino speriamo di vincere questa scommessa voglio dare nel ringraziare gli ospiti e voi per la pazienza che avete avuto l'ultima parola al sindaco Luca l'ultimo saluto il saluto finale per l'ultimo saluto non suonava tanto bene il saluto finale per tutti noi cari ragazzi siamo arrivati giunti alla conclusione della sesta edizione del premio Muricello vi ringraziamo per la pazienza la partecipazione stasera è stato un momento importante guardate di dialogo culturale di crescita abbiamo ascoltato le testimonianze dirette e positive degli ospiti ragazze ragazzi professionisti imprenditori che si impegnano quotidianamente per andare avanti e per far trionfare la cultura la libertà la dignità l'uguaglianza che sono principi fondamentali della nostra carta costituzionale noi come amministrazione non dobbiamo mai perdere il contatto con la gente con i cittadini di San Mango d'Aquino siamo a vostra completa disposizione se ci sono problemi ci sono criticità segnalatele parliamo io ringraziando a Dio ma io non solo ma tutti l'aggiunto i consiglieri tutti sono a disposizione hanno un buonissimo dialogo con tutto il popolo di San Mango d'Aquino e insieme vi chiediamo insieme dobbiamo andare avanti vi chiediamo di collaborare di aiutarci perché ci siamo insediati da pochi mesi e ogni giorno ci sono delle problematiche noi davanti ai problemi sappiate che non scappiamo noi se c'è un problema lo andiamo cerchiamo di risolverlo in maniera diretta poi può essere condiviso non condiviso si sbaglia non si sbaglia punti interrogativi perché come però si poteva fare meglio benissimo però noi ci assumiamo le nostre responsabilità e come abbiamo anche detto precedentemente noi siamo una squadra coesa ognuno con la sua professionalità maturità responsabilità insieme stiamo cercando di dare risposte quindi al popolo di San Mango d'Aquino che è un popolo che tra l'altro caro Ugo come sai ci ha diciamo dato ampia fiducia ampio consenso e quindi cerchiamo di non deludere le loro attese in questo momento particolare e vi ringraziamo per l'attenzione buona serata e un abbraccio caro a tutti voi grazie solo un'ultima cosa vi chiedo scusa che era scappata è un ringraziamento doveroso non solo a chi gli ospiti che sono venuti a riprendere la serata ma anche a Luciano Costanzo che voi lo sapete infaticabile in questi mesi conserva e del geloso e custode della storia e degli avvenimenti di questo paese grazie a Luciano grazie a tutti Grazie a tutti